Sono Massimo Spattini, medico, specialista in scienza d'alimentazione e in medicina dello sport, certificato in medicina anti-aging con l'A4M USA e certificato in medicina funzionale con l'Institute Functional of Medicine USA. Anche quest'anno sono nel comitato scientifico e docente nella scuola di alta formazione di secondo livello epigenetica, biofisica, nutraceutica e nutrizione che consiglio a tutti perché veramente è una scuola di altissimo livello che porta avanti i concetti della medicina funzionale, della medicina integrata e quindi permette all'operatore di salute di lavorare e avere delle conoscenze in grado di poter risolvere i problemi andando alla base e utilizzando un approccio basato fondamentalmente sulle 4P, cioè la medicina preventiva, predettiva, personalizzata e partecipativa e questa è la vera medicina del futuro che tutti coloro che faranno questa scuola saranno poi in grado di esercitare.